benvenuti ben ritrovati parte un nuovissimo appuntamento della vetrina dell'auto noi oggi siamo sempre a milano in via grosio al numero 9 ospiti proprio del motor village motor village vuol dire davide ciao ariana buonasera ai nostri spettatori benvenuti in casa fca vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo per le visite del mese di ottobre novembre sarà un mese molto importante per la nostra azienda perché vogliamo consolidare l'anno quindi tutto quello che abbiamo fatto di buono e riproponiamo tutte le soluzioni che i clienti ci hanno dato conferma di gradire quindi il finanziamento con il tasso 0 quindi tan tasso anno netto 0 per cento verrà riproposto massimo 10 mila euro per un massimo di cinque anni nel finanziamento ci saranno delle soluzioni assicurative molto molto interessanti che daranno delle coperture e delle garanzie di tranquillità ai nostri clienti faremo di più i clienti che vogliono finanziare un pochino di più dei 10 mila euro avremo un tasso esclusivo del 3,14 che permetterà di avere un importo finanziato totale quindi con anticipo 0 fino al massimo di 84 mesi quindi il mio consiglio è di fare un salto in casa madre vedere tutte le soluzioni della nostra finanziaria del gruppo fca bank perché sono certo che la vettura che state cercando all'interno di questo showroom ce l'abbiamo e sicuramente con tutti i conteggi del caso troveremo la rata più ideale per le vostre esigenze quindi direi che anche il mese di novembre è un mese ricco di novità perché siamo presenti su tutte le vetture usate chilometro zero del gruppo in maniera molto molto forte continuiamo con dei pacchetti esclusivi che variano dalla grande punto variano sulle panda sulle 500 sulle 500 l sulle vetture premium quindi abbiamo i cerocchi abbiamo i renegade i gran cerocchi a dei prezzi veramente veramente molto molto interessanti la garanzia select for you continua anche nel mese di novembre quindi avremo delle vetture con 160 controlli certificate dove avranno 24 mesi di garanzia dove tutti i nostri clienti si sentiranno tutelati anche sulle vetture usate come se fossero delle vetture nuove quindi direi di incominciare con qualche esempio andiamo a vedere bmw z4 2000 benzina 184 cavalli euro 6 la vettura è un marzo del 2015 con solo 18.400 chilometri la nostra richiesta di 29.900 euro qui abbiamo una lexus is 300 h la vettura immatricolata a settembre del 2014 a 50.000 chilometri questa è una vettura 25 benzina 181 cavalli ma ibrido quindi anche con un motore elettrico quindi fantastica per poter andare verso il centro anche nelle zone a traffico limitato con dei consumi praticamente inesistenti venitela a vedere perché davvero un pezzo molto molto interessante la brutta stagione alle porte quindi sono indispensabili le vetture 4x4 incominciare con questo che un gimme nella versione plus 1.3 benzina 85 cavalli la vettura è un dicembre del 2015 ha percorso solo 5.300 chilometri la nostra richiesta di 15.900 euro sempre per le vetture 4x4 qui abbiamo un fantastico jeep Cherokee 2.170 cavalli cambio automatico con 17.100 chilometri la vettura immatricolata a febbraio del 2015 33.900 euro la nostra richiesta jeep compass 2.2 diesel 163 cavalli questa è una versione full option quindi con l'interno in pelle il navigatore la vettura è un agosto del 2012 con 57.000 chilometri la nostra richiesta di 15.900 euro qui a fianco vedete delle vetture analoghe con chilometraggi diversi con prezzi che partono da 14.500 euro quindi la scelta in casa fca è veramente grande quindi quello che vi chiedo di passare in showroom per visionare tutte le nostre opportunità qui abbiamo una panda cross 1.3 diesel 80 cavalli la vettura un aprile del 2015 ha percorso solo 5.100 chilometri 15.500 euro la nostra richiesta doblò 1420 cavalli benzina metano quindi ottimo per bassi consumi 38.100 sono i chilometri la vettura immatricolata a settembre del 2013 la nostra richiesta di 12.900 euro qui abbiamo una golf plus questa è una versione cambio automatico doppia frizione benzina 1.422 cavalli immatricolazione aprile del 2011 i chilometri sono 73.000 la nostra richiesta sono 11.900 euro qui abbiamo una peugeot questa è una versione 2008 allure 1.692 cavalli diesel la vettura solo 28.000 chilometri immatricolazione novembre del 2013 la richiesta è 15.900 euro mini countryman 1.622 cavalli benzina questa è una vettura con 43.000 chilometri immatricolata ottobre del 2012 la nostra richiesta di 15.900 euro qui abbiamo una Volkswagen Polo 5 porta in line 1.485 cavalli col cambio automatico DSG doppia frizione 18.400 sono i chilometri per la vettura immatricolata luglio del 2013 la nostra richiesta di 10.500 euro qui abbiamo una lancia musa introvabile sul mondo dell'usato 1.6 diesel 68.800 sono i chilometri luglio del 2011 la nostra richiesta di 9.900 euro qui abbiamo una vettura molto molto compatta assolutamente ottima per la città toyota iq trend l'allestimento 1.68 cavalli benzina immatricolazione maggio del 2014 i chilometri sono 41.000 la nostra richiesta di 9.900 euro qui abbiamo una 500 abarth 1.440 cavalli molto molto aggressiva accattivante novembre del 2013 l'immatricolazione i chilometri sono 34.000 la nostra richiesta di 14.900 euro continuiamo con macchine sportive introvabili davvero sul mondo dell'usato questo è un allestimento particolare una cubi line 1.385 cavalli diesel 22.000 sono i chilometri la vettura immatricolata aprile del 2015 la nostra richiesta di 14.900 euro qui abbiamo un'altra vettura compatta davvero pari al nuovo 8.100 sono i chilometri per una smart for for mille benzina 70 cavalli la nostra richiesta è 11.900 euro per una vettura immatricolata febbraio del 2016 altra city car 5 porte questa è una micra 1.280 cavalli benzina giugno del 2015 con 9.000 chilometri la nostra richiesta di 8.900 euro jeep renegade è sicuramente l'auto del momento come vedete vi ho selezionato alcune vetture per dare l'opportunità di entrare nel mondo jeep con prezzi a partire da 18.900 euro per un jeep renegade 1.6 allestimento longitude questo è gennaio del 2015 con 19.900 chilometri qui abbiamo anche altre motorizzazioni altre trazioni vari colori 4x4 4x2 e anche col cambio automatico quindi davvero tantissime opportunità per poter acquistare la vettura del momento con degli spazi incredibili è davvero un marchio premium da poter utilizzare quindi veniteci a trovare la vettura vi aspetta siamo arrivati in chiusura quindi invito i nostri clienti e venireci a trovare in showroom perché avremo dei prezzi incredibili sulle nostre chilometro zero alcuni esempi avremo le punto 5 porte 1.2 benzina street a partire da 8.700 euro avremo le panda sia diesel che gpl 11.500 euro avremo le 500 cabrio 12.900 euro e un lotto di una decina di mito 1.4 progression come allestimento che partiranno da 11.900 euro quindi il mese di novembre riserverà delle offerte davvero fantastiche per i nostri clienti associate a dei finanziamenti esclusivi a tasso zero con all'interno i servizi assicurativi quindi davvero una grossa opportunità veniteci a trovare metteteci alla prova e dateci un'opportunità sicuramente troveremo la macchina dei vostri sogni e troveremo la soluzione più ideale per le vostre esigenze quindi vi do il benvenuto in casa FCA e vi invito a venirci a trovare davvero la macchina dei vostri sogni e qui che vi aspetta. E eccomi ora in compagnia di Francesco Milazzo responsabile vendite andiamo adesso a parlare di un'interessantissima novità. Sì parliamo di B-Free è un'interessanta novità un sistema innovativo per avere oggi la vostra Fiat 500 e la vostra nuova Fiat Tipo nella versione 4 porte 5 porte e Station Vega. Parliamo di un noleggio a privato pensate potete ritirare la vostra lettura nuova la Fiat 500 per fare l'esempio della 500 non versando alcun anticipo e con un canone mensile a partire da 199 euro quindi ovviamente parliamo della 500 nella versione 1200 base salendo poi di allestimento ovviamente avremo poi un canone leggermente più alto quindi dicevo anticipo 0 48 canoni se decidete di tenerla per 48 mesi a partire da 199 euro. La cosa interessante di questo sistema di pagamento eccezionale direi è che questa vettura voi dal tredicesimo mese in poi la potete restituire senza alcuna penale se siete rimasti all'interno dei chilometri stabiliti che tra l'altro non sono pochi e ritirarne una nuova quindi la durata è 48 mesi ma dal tredicesimo mese la vostra nuova Fiat 500 o la vostra nuova Fiat Tipo la potete restituire e ritirarne un altro. Quindi Francesco ogni anno una macchina nuova? Assolutamente sì più che ogni anno ogni tredici mesi. Eh tredici mesi sì. Giusto che dal tredicesimo in poi è possibile restituirlo. Questo se parliamo della versione B-Free normale è importante anche dire però che c'è anche una versione del B-Free che si chiama Plus dove possiamo andare a inserire. Ritorno un attimo sulla versione base del B-Free con all'interno la tassa di proprietà e la pollizza RC. Se andiamo a proporvi invece e qui ci saranno tutti i nostri consulenti alle vendita a vostra disposizione per spiegarvelo in tutti i dettagli nella versione Plus possiamo inserire anzi dobbiamo inserire la pollizza furto incendio la pollizza la pollizza casco la manutenzione quindi una serie di servizi che vi permettono di stare assolutamente tranquilli nella guida della vostra nuova Fiat da da 12 a 48 mesi quindi compreso una serie di servizi importanti all'interno del canone mensile. Anche in quel caso anticipo 0 e 48 comodi canoni. Quindi direi una novità assolutamente da approfondire per gli amici a casa. Via Grosio numero 9 Motor Village ovviamente li aspetta. Certamente anche qualche domenica siamo a vostra disposizione se andate sul nostro sito www.motorvillageitalia-milano.it vi informeremo anche per quanto riguarda le nostre aperture domenicali quindi venite a chiederci di parlarvi di B-Free perché è veramente una iniziativa interessantissima. Ciao Francesco e un saluto a tutti voi a casa. Vi aspettiamo Motor Village via Grosio numero 9. Ciao!